Capo il pallone, penso al cross, lo effetto va a cercare, plavi! 2-1 Juve! Al novantesimo e dieci secondi! Penso di non regge. Questa stagione è qualcosa di clamoroso. Vi chiedo nei commenti se, secondo voi, da qui fino alla fine della stagione in corso, la Juventus vincerà altre partite al novantesimo. Per me abbiamo finito i bonus per quest'anno e per il prossimo. Se il mio 500 mi piace riporterò la live reaction anche col Frosinone e vi ricordo che la Juventus sta per fare le sue prime ufficialità in entrata. Numero 10, applicazione completamente capitata per iOS Android, da avere a portata di mano che vi tiene conto di tutti i movimenti che farà la Juventus in questa sessione invernale. Scarica l'app e adesso dentro con la reaction. Signori, eccoci qua. La priorità è vedere se il campionato è morto dopo ieri alle ore 14 e 25. Cosa importante, tiriamo la cazzo di ruota. Prima squadra ad andare in gol a Salernitana. C'ha... Segna ma... Segna sì. Eccolo, Lissone, la salva Vard. Via, si parte ragazzi, il mio pronostico. Diamo go, 100 per cento, ricontino con il mio 2-1-1. Il Dizzo, il Dizzo. Il Dizzo recupera ballo, fai l'accelerata, cade in aria e Maggiore gli va a carezzare il viso al turco, provocandolo. C'è da stare sempre attenti. Brada Riccio sulla sinistra, c'è Sini in mezzo che è bello alto. La toglie... Cesni! Ma perché l'audio è in ritardo da son di me? 70.000 euro al mese per... Ma vaffan, ci capisce un cazzo? Da interista ieri il gol era 100 per cento da annullare. Sì, ma anche se non era interista, anche da magazziniere, da camionista me lo potevi dire. La Juve ha tutti i forti in campo. In panchina solo mili, healing. Non sono giocatori che per forza impattano bene alla partita. C'è d'angolo. Sale! Non ci credo, chi è? Danilo? Il Diz cross. Di testa Meccanico! Stil! Meccanico riesce a segnare. Traversa Frosinone. E' parata oggi. Per i capelli biondi aspettate. C'è gente, ieri, oh Ale, ma non hai ancora fatto i capelli biondi. Quindi, calma. L'importante è che li faccio. Palla lunga! D'usa! E' il controllo! Tira! A Ildiz, ovviamente. Costi, c'è... Ragazzi, io non ce la faccio più. Ma posso bestegnare sempre Dio per quest'uomo? Per Ildiz, che punta ancora l'uomo. Vediamo se è sempre Natale. O se è veramente forte! Cade ancora e non è neanche angolo. Sambia, l'erede di Mazzocco. Peggio non può fare. Eccolo! Simi si dispera. Nigeria ha sempre vissuto queste notti piogge torrenziali. Zona Equatore, la Nigeria. Quindi ci sta. Cosa che non è partita da live reaction questa, eh? Ma con il destro a profondo, secondo palo! Dio Belva la toglie dalla testa di Bremer! Fazio! Eh oh! Costi, c'è neanche bene con la testa! Zio, se li ha rotto a mare! Vlaovic, arrabbiò! Vabbè, dai, avanti, avanti, ragazzi. Al sesto dubbio uno ce lo daranno. Qui Costi, c'è addirittura, perde la rimessa! Ragazzi, è un disastro questo ragazzo! Ma veramente, eh! Hildiz parte da lontano. Altra giocata incredibile! Secondo giallo procurato dal turco. Mamma mia, Ghiomber! Xavi! C'ha un Adrogba! Scarico per Maggiore! Gol della Salernitana! In una giornata del genere, non poteva che essere così la vita. Abbiamo preso gol. È normale, si può prendere gol. Siamo una squadra umana. Salta la prossima, ragazzi. Lo so, c'è nervosismo. Prende prima la palla, poi la gara. Manca anche solo che per questa roba qualcuno chiede il rosso. Non ci fa neanche battere questa rimessa. Una vergogna non dare neanche un minuto di recupero dopo un gol. E tre gialli. Ealing entra. Ma vi asce Kostic. Ealing farà peggio di... Se fa peggio, fa autogol. Perché poi peggio di come ha fatto. Data non può fare. Secondo tempo. Ricordiamoci che sono ammoniti comunque maggiore. E Ghiomber, proviamo a giocare su questa cosa. No, Hildiz, Rabiot. In mezzo ci sarebbe qualcuno! Si sta, si sta. Perché McKennie è uno che parla con quella bionda che l'ha data a tutte. Meno Weah. Ve l'ho detto ragazzi, al sesto episodio dubbio ce lo danno. Siamo a quattro per ora. Ma era già un munito maggiore? Era già un munito. E quindi! Dieci contro undici la Salernitana. Sulzo maggiore. Non esulto per i rossi. Sarà sempre difficile segnare. Non ho niente da esultare oggi. Entra Milik infatti. Blaovic sponda, McKennie, Blaovic. No, non ce la facciamo. Deviazione netta di Bron. Bremer sa che se circonda l'arbitro rispetto a un'altra squadra prenderebbe il giallo. Bisogna fare come Malinowski che urla bastardo in faccia a Hildi. Però questa è roba più da Antonio Conte. Non è roba da lei. Non trasmette l'odio e la rabbia. Hiling fa un po' la mezzala da quello che stiamo vedendo. Che vi devo dire? Un giocatore che dribbla, non tira, ma bene, importa. L'abbiamo visto. McKennie si gira. Scarica. Wea. Blaovic la scicca. Hiling. GOOOOOOS! GOOOOOOS! Gugiamola! Anche a questo ragazzo! Non sa tirare! Sì! Si ripete la storia! Uomo che insulto! Uomo che... A parte Kostic. Fuziona! Dopo un liscio di Blaovic. Tredicesimo marcatore diverso in gol della Juve. Possiamo pensare che si levano dal campo. Bradaric da fuori area. Succede anche questo. Succede che rischi oggi di Pilià. Tutti ridurgo. Pronto Miretti. E abbiamo finito! Finito, non c'è più niente. Ragazzi, è Milik. È un po' l'Arnautovic nostro. Un dei migliori in termini proprio... Ma non avrà bene il pallone col mancino che andrà a palla eccezionale per Simi! Che non è riuscito a colpire. Corridoio. Arrabio. Ma perché? Che! Eh, vada sì, Milio bene. Non è che posso. Prova con il destro. Palla larga. Un pietto di healing è che deve troppo, eh. Tirato con il destro. Cazzo di piede healing. Sinistro o destro? Uuuuh. Guarda che... Guarda che... Guarda che attenzione, eh. Wea. Non ci abbiamo più niente e Allegri chiama il niente. Nonge. Se non ci esco il cazzo, vado fuori di casa nudo. Se no mi metto un cartellone sul pazzo, arrestatemi. Questo per completezza. Ma non a chi cazzo sono sti tre? Il presidente. Le cementano vivo, Dio. Un angolo, Vlaovic. Non ci sono altri modi. Arrabio come? Cioè... L'ha già fatto col Monza. Siamo attaccati a un miracolo, ragazzi. Pensa fa 46 punti in 19 partite con sta squadra. Già, eravamo oltre le aspettative. E Kenny, deve puntare l'uomo. Eh, ma va fuori dal campo. Quello si di meno a terra. Avanti, avanti. Ieri hanno giocato con l'uomo a terra. Andare avanti. Basta fare i martiri! Nini, tiro. Uno contro uno, McKennie, va via Braderic. Palla morbida in mezzo, colpo di testa di Candreva che allontana. I quei mesi dall'altra parte, chiuso da Danilo che... L'altra parte, chiuso... Riesce a tenere in campo il pallone, pensa al cross, lo effetto, va a cercare... Blavic! Per il 2-1 Juve! Al novantesimo e dieci secondi! Il co di testa che cambia la storia del match. Sul cross perfetto di Danilo. Frosinone, come a Frosinone. Cross da destra. No! Veramente, andare di voglia col pallone, Blavic. La pane per Costil. Ungolatissimo per il tere francese della Salernetta. Adesso ci sono ancora tre minuti e mezzo da giocare. Non è finita! Lo lascia sfilare verso 190 secondi alla fine. Vuole soprattutto guadagnare metri e rischiare meno recupero a Legoschi. Che si appoglia nuovamente a Gani. E soplauvic deve soprattutto risparla recuperata. Possesso Salernitana. Altra apertura. A difendere il pallone arriva a Szczesny. Lo lascia sfilare. E messo dal fondo. Un briciolo di energia dal cuorello. Guardalo, guardalo. Il marmo! Il marmo serbo, il pettorale, porco. Non ce la faccio, non ce la faccio. Ah, pure dal portiere abbiamo il tempo di andare. 5-10. Falla profonda, cercare faccia che rimana farà. Pure due oltre il tempo regolamentare. FEDELITÀ! ELAIQUI! 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 Contro tutte e tutti! Per un'altra settimana, col fiato sul collo, con una squadra del genere, con Ili, non c'è Ildiz! Vai a Cervi! Quanto l'abbiamo pagato, non c'è! Roma da matti! Grazie veramente a tutti. Non potevamo andare in altri modi, non potevamo non stargli dietro. Si è arrivato, se no, questo con il mashtag. Delay. Scritto DELAY. Che vuol dire ritardo. Ed è quello che ho impiegato io per esultare. Perché ho voluto controllare che l'arbitro non avesse fischiato un'irregolarità. Perché ormai non si esulta più neanche quando sembra che tutto possa essere fatto. Perché quando tutto non è regolato. Ricorda di me.